E' stata inaugurata questa mattina la Casa di Vincenzo, il rifugio notturno per i senza tetto voluto fortemente dall'amministrazione a Corinti che in campagna elettorale aveva annunciato particolare attenzione per gli ultimi. Gli ex magazzini generali sono stati riconvertiti in un ricovero grazie all'impegno di tanti volontari del Movimento Cambiamo Messina dal Basso e dell'Associazione Santa Maria della Strada che lo gestirà nei prossimi due mesi in attesa ovviamente del prossimo inverno. A colorare locali un tempo tetri, lenzuola di cotone e un tulipano collocato in ognuna delle quattro stanze che ospitano complessivamente 20 posti letto. All'ingresso è stata ricavata una sorta di reception, rinnovati anche i servizi igienici. Visibilmente emozionato è il primo cittadino renato a Corinti affiancato dagli assessori Signorino e Mantineo. Assente il collega di Giunta Cucinotta che pure si è impegnato nella realizzazione di un'opera che come ha sottolineato la Caritas non ha precedenti ammessine che dopo 40 anni offrirà finalmente un posto caldo a chi è stato sempre costretto a dormire per strada, qualche volta perdendo anche la vita tra stenti e disagi. Il sindaco si è scusato per il ritardo con il quale la struttura è stata completata, originato da una macchina burocratica che ha rallentato ma non ha fermato l'amministrazione e ha annunciato il bando relativo alla riqualificazione dell'Istituto Marino che dovrà ospitare i bambini più sofferenti. La casa di Vincenzo, ha aggiunto padre Tripodo, affianca le mense di Cristo Re e Sant'Antonio purtroppo sempre più frequentate. Aprirà alle 20 e chiuderà la mattina successiva alle 8. Padre Franco Pati ha assicurato che almeno un paio di operatori saranno presenti tutte le notti. Ha attivato un servizio di lavanderia provinciale grazie al quale i senza tetto avranno garantiti abiti puliti a intervalli regolari.